Io vorrei che si utilizzasse il giusto approccio, un approccio di maggiore maturità e di maggiore consapevolezza. Certamente, lo dicevamo prima, non si risolvono i problemi del Paese soltanto attraverso l'abolizione dei vitalizi, ma tuttavia in un momento storico come questo, anziché far riferimento ai temi dei diritti acquisiti, affrontare la questione dicendo di voler chiedere scusa a quei deputati che dovessero poter perdere il vitalizio mi sembra un tantino troppo. Micichea ha dato questa espressione che evidentemente è assolutamente fuori luogo. Io chiedo invece a lui che vada a chiedere scusa a tutti quei disabili che non ricevono l'indennità, a tutte quelle persone che hanno lavorato una vita e che non possono andare in pensione, a tutti quei giovani che non trovano il lavoro, a quelle imprese che chiudono. Ecco, si cambia approccio, si abbia maggiore concretezza e maggiore consapevolezza e soprattutto si adottino dei toni adeguati alla difficoltà del tempo. Non si chiede scusa ai deputati, ma si chiede scusa a questa gente. Micichea, fallo. La sua proposta qual è in questo campo? La mia proposta è quella di attenzionare il tema con l'adeguata responsabilità. Certo, laddove i vitalizi, ad esempio, si aggiungono ad altri introiti che possono essere legati ad indennità, che possono essere legati a pensioni avute anche da una carriera magari in altro contesto, ecco, lì sicuramente bisogna intervenire. La mia proposta è quella di intervenire sugli sprechi, sulla razionalizzazione dell'Espesa, legata ad esempio alle tante partecipate che ci sono in Sicilia. Ma la mia proposta è anche, rispetto al tema dei vitalizi, quello sì di abolirli.